Una curiosità, perché hai scelto il numero di maglia il 21? Avevo parlato con il direttore, lui mi aveva proposto di usare la maglia numero 10 che è molto importante qui per quello che ha fatto Totti e io credo che quel numero e quella maglia ancora deve essere sua per quello che rappresenta per la città, per i tifosi. Ho ringraziato molto perché sicuramente portare una maglia così ha bisogno di tanto rispetto e di tanta responsabilità. Un giorno magari potrò portarla, però oggi sono contento di avere il 21.